Musica Serie C alle 20.45, Gubbio Ternana di fronte al Barbetti, diretta radio su RGM, mercoledì il punto su fuorigioco, ore 21, dilettanti i risultati del weekend. Il volley Superlegacy Perugia a Nienta Padova domenica prossima può festeggiare il primato matematico. Giovedì Champions in terra francese, Gubbio ciclismo mocaiana e nastri di partenza presentate le squadre della società calcistica Eugubina. Buonasera, ben ritrovati al TG Sport, ovviamente il calcio in apertura perché in campo alle 20.45 Gubbio Ternana per il derby Umbro che chiuserà la giornata numero 30 del girone B di C. Potete seguire la partita e le interviste post gara in tempo reale su RGM e Tredio oppure sul canale 604 del Digitale Terrestre. Mentre nel TG Sport di domani andrà in onda ovviamente il servizio del match e le dichiarazioni post gara. Eccezionalmente di mercoledì alle ore 21 il nostro fuorigioco su TRG con Roberto Minelli e Giacomo Branco. Intanto nelle gare già disputate il Pordenone Spugna Trieste nel big match scappa in vetta a più 10 dagli alabardati. Vantaggio che consenta ai friulani di avere già un piede e mezzo in B. Cade la Ferral Pisalò sul campo della Virtus Verona, rimarchevole blitz della Gianna e Arminio a Bolzano. Mentre in chiave playoff pesanti vittorie per la Fermana e Ravenna. Il Vicenza spugna con fermezza il campo della San Benedettese. Lo scontro salvezza di Bergamo vede trionfare il Teramo mentre termina in parità tra Emolese e Renate e Monza bis Pesaro. Turno di riposo in Serie D coincidente con il torneo di Viareggio mentre in eccellenza nella giornata numero 24 assesta la fuga probabilmente decisiva il Foligno che approfitta pieno della sconfitta interna del Lama con il Sanzisto batte 2 a 1 a domicilio l'Assisi su base ed ora è a più 8 dai Lamarini. Il Sansepolcro regola di misura la Ponte Vecchio, il derby Spoletino sorride alla Ducato e il Ponte Falleceppi supera 1 a 0 il Massamartana. Finisce in parità tra Piavese Angelana, Castel del Piano Narnese, Ellera, Orvietana. Nel girone ha di promozione l'attiferno di Laga 4 a 1 sul terreno della Castiglionese Macchie e scappa a più 8 dal Branca battuto al Santa Barbara per 2 a 1 dal Marra San Veliciano. Cade anche la Trasimeno a Mugnano, sorridono Pietralunghese e Selci 2 a 2 invece per il Montone contro San Marco Juventina. Nel girone B la Nestor viola Giove e mantiene gli 8 punti di vantaggio sul Gualdo Casa Castalda che batte 1 a 0 il Petrignano mentre il Viole regola 2 a 1 Olimpia Tirus. Parliamo di Volley e di Superlega dove resta saldamente al comando la Sir Safeti con ad Perugia capace di battere nettamente anche Padova al Palabarton. Ora in arrivo quarti di Champions in terra francese e quindi si torna a Pian di Mastiano per chiudere i conti in chiave primo posto. Facciamo il punto in questo servizio. Ora manca solo l'aritmetica. Prosegue la striscia vincente di Sir Safeti con ad Perugia che annienta 3 a 0 Chioene e Padova nell'anticipo dell'undicesima di ritorno di Superlega centrando il quindicesimo successo consecutivo tra campionate e coppe e trovando soprattutto 3 punti d'oro che consentono ai bianconeri di confermare saldamente la vetta della classifica sempre a più 3 da Trento e a più 4 da Civitanova e con una vittoria piena domenica prossima in casa contro Sora i Block Davids centrerebbero la matematica certezza del primato due set i primi di marca Sir terminati 25-19 e 25-18 poi nel terzo parziale la reazione patavina che arriva sino al massimo vantaggio del 13-18 ma la battuta perugina diviene esiziale per gli ospiti e la Sir ribalta il computo chiudendo sul 25-22 e 3 a 0 finale MVP il solito inarrestabile Leon con 21 punti e ben 6 ace 15 segnature anche per Atanasievic con un rimarchevole 62% offensivo ed ora in arrivo un doppio impegno altresi focale per il sestetto di Bernardi giovedì trasferta di Champions in terra francese a Charmant con inizio fissato per le 20.30 per l'andata dei quarti con in ballo una bella fetta di qualificazione alla semifinale e poi domenica alle 18 contro Sora facile prevedere un Palabarton sold out per spingere i bianconeri a chiudere matematicamente in testa la regular season al fine di avere così una posizione di privilegio contro qualsivoglia avversario in ottica fattore campo nei playoff scudetto Siamo bene, stiamo lavorando, stiamo stati attenti a tanti dettagli a quelli che fanno la differenza e rompere il fortino di Shumon sarà molto difficile quindi dobbiamo andare con la massima tensione, concentrazione mettere tutto quello che abbiamo giovedì e proviamo a portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante partita su partita sono tutti importanti se noi molliamo, come detto prima, se continuiamo a guardare indietro forse ci ciampiamo, quindi l'importante sarebbe fare le cose giuste mettere tutto quello che abbiamo fino al 23-24 che è la ultima di campionato e dopo faremo i conti Sempre molle in a due femminile alla Bartocini, gioielleria Perugia non riesce l'unplane di vittorie nel girone di andata della pool promozione cedendo al tie break al cospetto di una Zambellio-Orvieto versione super capace di recuperare due set di svantaggio e conquistare al photo finish due punti fondamentali per mantenere la settima posizione Perugia rimane in testa alla classifica con 29 lunghezze ma vede avvicinarsi 30 a quota 25 e Soverato a 24 sabato 16 anticipo della prima di ritorno alle 20.30 sempre al Palabarton contro Martignacco chiudiamo con il ciclismo perché è pronta a ripartire la carovana della Gubbio Ciclismo Mocagliana e della Acqua e Sapone Team Mocagliana con le tante squadre del doppio sodelizio gubbino che sono state presentate, vediamo Di nuovo in sella al via la stagione della Gubbio Ciclismo Mocagliana e dell'Acqua e Sapone Team Mocagliana da anni oramai sulla cresta dell'onda per i risultati ottenuti dai propri atleti e per lo sviluppo dell'attività sportiva in ambito giovanile le due società hanno presentato le formazioni che coordinate dal team manager Stefano Marionni difenderanno i colori eugubini fuori e dentro l'Umbria il folto gruppo di giovanissimi esordienti allievi per quanto riguarda la Gubbio Ciclismo Mocagliana oltre alla formazione juniores dell'Acqua e Sapone Team Mocagliana Location è stata il CVA della frazione Gubina offerto ed allestito dalla proloco del presidente Giovanni Fioroni mentre sono intervenuti per inaugurare la stagione dei sudalizzi gubbini il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati il consigliere regionale Andrea Smacchi il vice commissario regionale della federazione ciclistica italiana Carlo Moriconi oltre a Daniele Costa main sponsor e presidente onorario dell'Acqua e Sapone Team Mocagliana tanti poi i sostenitori, gli amici e i familiari venuti ad applaudire i ragazzi e gubbini Gubbio Ciclismo Mocagliana e Acqua e Sapone Team Mocagliana saranno impegnati anche sul fronte organizzativo mettendo in scena diverse gare il 25 maggio e il 6 luglio quelle per i giovanissimi il 19 giugno la giornata del ciclismo per esordienti allievi e il 18 agosto la gara per gli Juniores ed ora non resta che far partire il countdown per il primo appuntamento stagionale fissato per il 17 marzo con il gruppo Juniores atteso in Abruzzo nello specifico a Sant'Egidio e alla Vibrata provincia di Teramo per l'esordio di un 2019 che si spera possa essere ancora fulgido per il ciclismo e gubbino è un momento conviviale di stare insieme di unire tutte le nostre famiglie i nostri amici saranno molti sponsor quelli che ci permettono di andare avanti questa attività perché comunque sia è un'attività molto molto costosa perciò è dispensosa di energie e in occasione della presentazione a tutti i ragazzi i giovanissimi ridaremo tutti i vari trofei che hanno vinto in tutta la stagione nonostante le difficoltà che ci sono anche economiche finanziarie e tutto il resto cerchiamo di dare una mano anche perché è una struttura che veramente si impegna sul lato anche umano più che solo competitivo eccetera perché hanno molti bambini piccoli quindi riescono a creare un ambiente diciamo familiare quindi noi queste società cerchiamo di incentivarli e di darli una mano dal punto di vista oltre che economico anche di amicizia eccetera stasera le 22.30 su TRG per sport e incontri spazio alle bocce con il campionato nazionale a squadre di Serie A che vede la A per capo cavallo in netta scesa inoltre il punto sul panorama sportivo a Gualdo Tadino ci fermiamo qui ovviamente c'è la partita tutta da seguire del Gubbio con la Ternana noi ci ritroviamo domani mattina alle 7.30 con la rassegna stampa anche per vedere il servizio di Gubbio Ternana e sentire le interviste del post gara